Sento il mio ego che si espande nella materia Mettete la cuffia quando fai la doccia, che l'acqua ti manda in corto il cervello C'era rimasto in due, mi fa pensare ad enormi spazi aperti Io qui vorrei inviancare, e qui no E chissà se vendono delle tendine a sbarre E da quest'angolo tiriamo fuori un bel posto letto per me Come dicono i cinesi, un angolo letto Un angolo letto per me Per lui Lui chi è? Ma niente, l'ha fatto entrare Pasquale un attimino Un attimino? Lo diceva anche il mio avvocato quando sono entrato qui Lui chi è? È solo un transito, dai Mi dici chi sei? O io prima ti meno e poi chiamo qualcuno per il riconoscimento Allora, fai finta che non esiste, dai Sì, infatti io sono l'uomo invisibile e tu devi essere la cosa E insieme siamo i fantastici... i fantastici quattro I fantastici quattro... i miei miei... Ma con l'infermità mentale non dovrebbero darti gli arresti domiciliari? Mi devi assicurato che non sarebbe entrato nessuno qui Mettiamola così, con questo spazio in più ci vuole qualcuno che pulisce, no? Certo, infatti io sono disposto a fare le pulizie lunedì e martedì anche E anche il mercoledì, giovedì, venerdì e anche il sabato E anche la domenica, fisso!